ciao bentornati a un'altra puntata di genesi focus questa settimana il nostro focus è su un toro viking red abbastanza famoso che si chiama frerup nome difficile ma come al solito c'è un modo semplice per arrivare a scoprire tutto di viking genetics potete andare appunto su viking genetics.com vi trovate immediatamente sul sito molto ben fatto tra l'altro di viking genetics entriamo nella sezione da latte e andiamo nella red derichettolo essendo un toro rosso facciamo bull search che ci manda subito a trovare il toro che ci interessa in questo caso è molto semplice perché il toro di nostro interesse il nostro focus oggi è su frerup che vedete qua è il primo toro in classifica quindi è molto facile trovarlo è il primo toro esce con un ntm di 37 vi ricordo che è molto facile leggere gli indici di viking perché 0 rappresenta la media di tutti i tori e ogni 10 punti c'è una deviazione quindi a lui come se fosse 3,7 deviazioni sopra alla media il toro è nato nel 2015 agosto 2015 è un figlio di faber su mamma fanfar qui vedete che è un toro a 1 a 1 per la beta caseina a a per la k caseina non è polle di incompenso ha un codice tripla abbastanza particolare perché il 561 e non è così scontato la quello che mi piace del sito viking è che trovate tutte le informazioni in in un attimo qui mentre scarichiamo il pdf che quindi può essere stampato andiamo a vedere in sintesi le caratteristiche salienti di frerup vedete subito che è un toro decisamente alto a produzione a un indice di 124 quindi anche qui e 2,4 deviazioni sopra alla media a un buonissimo indice latte a un eccezionale indice grasso e un buonissimo indice a proteina a un buon indice di crescita che non ci interessa è leggermente negativo per quanto riguarda l'indice di efficienza alimentare qui vediamo un riepilogo di salute e aspetti riproduttivi dove spicca la salute della mammella e la salute generale la salute del piede la longevità che è una conseguenza per quanto riguarda i funzionali il toro è decisamente sopra media per la muncibilità è un toro leggermente superiore quindi leggermente positivo per il temperamento è molto buono per i caratteri morfologici generali è leggermente negativo su artepiedi e poi vedremo il perché ed è un toro positivo sulla mammella l'ultimo paragrafo riguarda gli aplotipi e vedete che il toro è free da tutti gli aplotipi specifici della viking red se clicchiamo nel frattempo sul pdf che abbiamo scaricato possiamo stampare l'informazione che abbiamo visto corredata dell'indice morfologico lineare in tutti i suoi caratteri quindi se vogliamo avere l'informazione completa qui abbiamo la possibilità appunto di stampare il lineare del toro se torniamo alla pagina principale qui possiamo cliccare su una rapida guida che ci spiega come fatto l'entm quindi nel caso che fosse necessario rinfrescare le nostre conoscenze il 45 per cento è salute e riproduzione il 40 per cento è efficienza e produttività e un 15 per cento è lasciato alla morfologia e ai caratteri di workability diciamo così di funzionalità e poi ci sono tutta una serie di segmenti che vi invito ad andare a vedere che spiegano più in dettaglio che cos'è l'entm ma torniamo a freerup clicchiamo sul link al nav al centro delle valutazioni genetiche e andiamo direttamente alla pagina con la valutazione genetica del toro vedete che il toro a 129 figlie in 88 allevamenti quindi parliamo di un toro che incomincia ad avere dati non più solo genomici ma in parte genomici in parte basati sulle figlie quest'ultima colonna che vedete index type che io ho cliccato qua ho evidenziato apposta dove c'è d significa daughter vuol dire che l'informazione è basata sulle figlie dove c'è g vuol dire che genomica che ancora non c'è un numero di figli sufficienti a dare informazioni basate sulle figlie qui vedete messo in un semplice ripiengo tutto quello che abbiamo visto prima vedete chiaramente che le attendibilità cambiano con le figlie 94 genomica e 88 ci sono alcuni casi in cui appunto ci sono differenze più marcate dal punto di vista degli indici vi ho già detto della produzione andiamo a vedere che cosa significano in realtà per dare a tutto quanto un significato un pochino più concreto il toro ha un indice di latte di 111 cosa significa significa che la media razza per la viking red sono 98 quintali di latte le figlie di frereo tendono a fare quasi 4 quintali di latte in più quindi siamo abbondantemente sopra di 101 quintali di latte di media e per quanto riguarda qui vedete i chili di grassi di proteina se volete guardare i titoli che sono di più facile comprensione per noi la media di razza è molto alta nella viking red perché 4,4 di grasso le frereo fanno uno 0,22 in più quindi stiamo parlando di 4,62 di grasso la media di proteine 3,6 le frereo fanno uno 0,06 in più quindi fanno 3 e 66 di proteine quindi si qualificano come va che con produzioni abbondantemente sopra i cento quintali di latte con titoli veramente molto molto importanti segnalo per quanto riguarda le caratteristiche positive la salute della mammella la media di razza della viking red è inferiore alla olstein sono 7,8 mastiti cliniche nel 7,8 per cento scusatemi di va che hanno almeno una mastite clinica nella loro carriera produttiva le frereo tendono ad abbassare in maniera considerevole questa percentuale di 3,08 quindi un 40 per cento in meno vedete che ha un indice molto positivo anche se nel conto riguarda le altre malattie che sono qui elencate dalla chettose alle malattie metaboliche o i patologie riproduttive o disordini riproduttivi naturalmente vi ricordo che come al solito viking genetics si basa solo discursivamente sulle diagnosi cliniche effettuate dai veterinari quindi non c'è diciamo un gruppo di animali che viene usato per creare gli indici ma tutti i giorni questo indice viene aggiornato lo stesso di casi per le patologie a carico del piede qui le vedete raggruppate evidenziate scusatemi tutte quante vedete che le figlie di proerup abbassano diminuiscono l'incidenza di queste patologie podali per quanto riguarda la struttura il toro come vi ho detto sull'indice tipo è molto positivo e in particolare per quanto riguarda la taglia la statura l'angolo della groppa è un toro come abbiamo visto prima negativo sull'indice arti e piedi la sua maggior negatività è questo 81 che è sotto media perché la media è 100 ed è dovuto agli arti visti di lato perché tendono a dare anche se soltanto di meno di mezza deviazione tendono a dare una certa falciatura diciamo così dell'arto altro punto negativo la qualità del garretto che tende a essere un pochino più grossolana anche se sono comunque deviazioni molto molto piccole da segnalare estremamente positivo 117 l'angolo del piede quindi sono talloni molto molto alti che si abbinano poi al fatto che il toro sia molto positivo per quanto riguarda la salute del piede come vi dicevo il toro è positivo sulla mammella ha un valore molto positivo per quanto riguarda la mungibilità vi ricordo come al solito che si tratta di misurazioni precise sono i grammi di grasso e proteina che passano per minuto nel condotto del latte quindi non si tratta di una valutazione di lenta o veloce ma di una misurazione le frere tendono a far passare più velocemente materia utile nel condotto del latte per quanto riguarda la longevità il toro ha un valore di 113 su una media già molto importante che 894 giorni in produzione che la media della vikin red le figlie di frere tendono a rimanere in produzione per 73 giorni in più quindi abbondantemente due mesi per finire torniamo a guardare velocemente qualche foto di figlia di froro questa è una vacca dove sicuramente si apprezza la profondità una buona mammella anche se una leggera chiusura sull'attacco anteriore e garretto non particolarmente difettoso qui vediamo decisamente più qualità da latte e impostazione del costato migliore questa è una classica figlia di frere quindi dove vediamo l'arto non magari pulitissimo ma molto solido e molto ben importato una mammella perfettamente irrorata questo spiega le grandi produzioni di queste vacche questa altrettanto molto valida vedete sempre mammella con degli attacchi molto molto buoni l'impostazione dell'arto che dà leggermente quella piccola falciatura che determina l'indice negativo su artipiedi però vedete come viene ben portato dall'animale e questo è il toro quindi ormai adulto e vi ricordo che è il primo toro in classifico quindi stiamo parlando chiaramente di un toro molto 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 popolare molto molto conosciuto quindi questo è il piccolo riepilogo su frereup vi ricordo che il sistema migliore è sempre quello di andare sul sito viking genetics e scaricare tutte le informazioni vi ricordo che vi potete scaricare appunto e stampare o salvare il pdf con tutte le informazioni compreso il dettaglio dell'indice morfologico per quelli che fossero particolarmente interessati spero di avervi dato un suggerimento interessante per quanto riguarda l'aggiunta di questo riproduttore ai vostri programmi genetici per chi fosse interessato ricordatevi di contattarci di scrivere di commentare di darci fastidio ci fa sempre piacere avere contatti con voi ci vediamo la prossimo genesi focus o la prossima genesi academy insomma state sintonizzati sui nostri canali che avrete sempre le notizie in anteprima ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti